Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart e in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze in Pruneta e l'allacciamento con la 11 in direzione Bologna. Rallentamenti invece in direzione Roma tra Firenze Sud e in Cisaregello. Passiamo sulla 11 dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano ancora 3 km di coda tra Pistoi e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Da segnalare anche code a tratti tra Sesto Fiorentino e Prato Ovest a causa del traffico intenso in direzione Pisa. Rallentamenti invece in FIPL per un veicolo fermo in avaria tra San Minato ed Empoli Ovest verso Firenze. Città di Firenze per sollevamento materiali con autogru dalle 23.30 di stasera fino alle 5 di domani mattina. Circolazione interrotta tra Pia Melegnano e Piazza Ogni Santi su Lungarno Vespucci. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!